Con fatica, la provincia di Pesaro Urbino cerca di adempiere le sue funzioni di manutenzione di scuole e strade, nonostante una mannaia di tagli di risorse dal governo centrale. In tal senso, il campo scolastico di Pesaro, che si ritrova alla mercè di allagamenti e infiltrazioni, è stato messo come priorità assoluta. Si sta infatti già intervenendo per le criticità più urgenti, ma da via Gramsci si predispone anche un progetto di intervento strutturale e duraturo attraverso le risorse ricavate da oltre un milione di euro che la provincia incasserà dalla cessione alla regione Marche della quota provinciale del centro per l'impiego di Via della Robbia. Vendendo una struttura alla regione e ci entreranno dei soldi, praticamente la cifra sarà circa un milione di euro che andremo a mettere nel campus per sistemare veramente in maniera definitiva tutto. Poi è l'inizio di veramente una ristrutturazione di fondo di tutto il campus. Il problema è che sono anni, strutture abbastanza anziane perché vengono fatte negli anni 70, c'è stata una costante manutenzione ma secondo me, anche se non si può dire, una cattiva progettazione perché un tetto piano dalle nostre parti crea e da sempre dei problemi. Campus a parte, restano prospettive nerissime alla luce di un'escalation di tagli che non pare destinata a fermarsi. Quest'anno noi abbiamo avuto 750 mila euro di tagli, il prossimo anno avremo altri 750 mila euro e nel 2026 350 mila euro di tagli. Poi abbiamo il patto di stabilità che entrerà in funzione nel 2025, ritornerà al patto di stabilità e si sa quasi per certo che sarà un 10 milioni di tagli su tutte le province italiane. Le province, ne parliamo anche a livello di UPI nazionale, sono al collasso e bisogna ritornare a rifinanziarle, ridargli le funzioni e dargli la dignità che le province debbono avere.